La scabbia nel Regno Unito ha fatto scattare l'allarme per la salute pubblica con dermatologi e medici di famiglia impegnati per curare tempestivamente i pazienti. La situazione è stata definita da incubo con focolai della malattia molto contagiosa e causata dagli acari nelle case di cura e negli alloggi universitari. I medici segnalano limiti nel monitoraggio nazionale dei pazienti, alcuni dei quali hanno tentato di acquistare trattamenti alternativi molto costosi su internet al di fuori del Regno Unito.